Il 28 all'interno del 32 è la fregata On危頭 perto del 32 fa largo e la sciottata del 88 Molto in grado Signo a Giovania e Pietanelli Tutto massa Grazie Urgo, vivo un sogno perfetto solo solo a un laboretto Stanno arrivando le stambiente Grande copo E stiamo a Zernanto Nel Timurzie dell'Alta Marrocia Statutissima batteria di finalmente Grazie.